Azione Antifascista Teramo chiama all'appello tutti i gruppi, movimenti e i singoli individui che si riconoscono nelle lotte e che vogliono dimostrare la loro solidarietà e vicinanza con i fatti, oltre che con le parole, a essere presenti sabato 9 febbraio a Teramo per un corteo nazionale. Un corteo indetto per esprimere la massima solidarietà a tutti i condannati, gli arrestati e gli inquisiti per i fatti del 15 ottobre 2011 a Roma per rispondere in maniera forte ed unitaria alla repressione che ogni giorno colpisce chi ha la forza e il coraggio di non abbassare la testa, per lanciare la battaglia contro il codice Rocco ed in particolare contro il reato di devastazione e saccheggio e tutte quelle leggi in forza delle quali ai singoli questori viene garantito il potere di limitare in maniera del tutto discrezionale e priva di controllo la libertà individuale attraverso l'emissione di fogli di via, avvisi orali e misure di prevenzione in generale. Azione antifascista Teramo chiede a tutte le realtà e a tutti i singoli che intendano rispondere alla loro chiamata di organizzarsi sin da oggi per raggiungere e far raggiungere Teramo nella giornata di sabato 9 febbraio e di farsi carico di diffondere, ognuno nei rispettivi territori, questo appello attraverso qualsiasi mezzo. Intanto il segretario del Partito di Rifondazione Comunista, Paolo Ferrero, ha inviato una lettera a Davide Rosci, che nei giorni scorsi aveva interrotto lo sciopero della fame per protestare contro la sentenza. Una lettera dove il segretario Ferrero dichiara «La tua battaglia per il superamento dei residui fascisti presenti nel nostro ordinamento penale è anche la nostra battaglia» e assicuro, continua Ferrero, che nel prossimo Parlamento la porteremo avanti e la proporremo a tutte le forze democratiche. Grazie a tutti!